Buonasera a tutti e benvenuti al rosario di questa sera in cui mediteremo i misteri dolorosi in questo venerdì, ultimo venerdì del mese di maggio. Un caro ringraziamento a tutti coloro che mi hanno spedito la decina del santo rosario anche per il rosario di questa sera e vi invito anche a mandare una decina per il rosario di domani sera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nel Gezzemani. Dal Vangelo secondo Luca, Gesù uscì e se ne andò come al solito al monte degli olivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro, pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo, Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. E nella preghiera del Padre nostro diciamo proprio sia fatta la tua volontà, anche quando magari ci costa fatica, ci costa impegno. Questa prima decina del Santo Rosario ci aiuta Diego. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Che sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi il tumulto cresceva, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo, non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose, il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rilasciò in libertà Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. In questa seconda decina ci aiuta Maria. E contempliamo tutte le persone che sono umiliate nella loro vita, che sono giudicate in maniera ingiusta dalla gente o dal pregiudizio che tanti hanno nei loro confronti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Nel terzo mistero doloroso, contempliamo l'incoronazione di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e li radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono. Li fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, incinocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Sputandoli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimesero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Gesù picchiato e umiliato. Preghiamo per tutte le persone che vengono umiliate nella loro vita e per tutte le persone che soffrono per la cattiveria altrui. In questa terza decina ci aiuta Giorgia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposini in pace. Amen. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne che si battevano al petto e facevano la menti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse, Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà, Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti cadete su di loro e alle colline copriteci, perché se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco? In questo lamento di Gesù sulle donne e sul nostro peccato, chiediamo umilmente perdono per tutte le nostre mancanze. Ci aiuta in questa quarta decina Cinzia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Che sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel quinto mistero contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse, O sei te. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, è compiuto. E chi nato al capo consegnò lo spirito. E questo consegnò lo spirito è un dono, è il dono dello Spirito Santo. Invochiamo su di noi lo Spirito Santo che possa guidarci nella nostra vita. è il dono più grande che Dio compie sulla croce, è il dono del suo amore. Ci aiutano in questa quinta decina i nipotini di Giovanna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del seno, tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che la vita della Vergine fosse segnata dal mistero del dolore. Concedici, ti preghiamo, di camminare con lei sulla via della fede e di unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo, perché diventino occasione di grazia e strumento di salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza, nostra salve. A te ricorriamo, esoli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. Invochiamo la benedizione che discenda su tutti voi, avete partecipato, questo Santo Rosario, sulle vostre famiglie. e in particolare su tutti gli ammalati. Il Signore sia con voi, vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Domani sera non ci sarà il Rosario perché la nostra comunità si raccoglierà nella Veglia di Pentecoste e ci sarà quindi l'occasione per celebrare la liturgia del Sabato Santo, della Veglia, delle Veglie di Pasqua che non abbiamo potuto vivere con la comunità lo faremo domani sera e poi ci ritroveremo per il Santo Rosario a concludere questo nostro cammino insieme domenica sera con la decina che chiude il mese di maggio. Grazie ancora, buonasera e buonanotte a tutti. Grazie a tutti.